Non lo sapeva io! Allora oggi parliamo di una battaglia dimenticata. Cosa è successo nella storia che noi non sappiamo? Tanto tantissime cose ovviamente. Questa in particolare è una cosa curiosa per quanto sia stato un momento tragico e violento, ma stranamente ne sappiamo molto poco. Siamo nella valle di Baccano, comune di Campagnano di Roma, e questa è la sede di un vulcano che esplodendo circa 60.000 anni fa è collassato, si è riempito di acqua con un lago che poi è diventato una palude fino ad essere prosciugato giusto giusto un secolo fa. Per cui insomma una vicenda sia geologica e storica da molto lontano fino quasi ai giorni nostri. Ma all'interno di questa valle correva anche la via Cassia ed era un percorso già in età romana, c'è la Manzio famosissima con tutte le sue vicende che vi ho spesso raccontato, ma c'è anche una vicenda abbastanza oscura, una battaglia alto medievale della quale ci sono pochissimi riferimenti, anzi diciamo più che altro quasi uno solo, e bisognerà prenderla un po' con le pinze, però più o meno il periodo e le vicende trovano delle conferme. Allora parliamo di una battaglia combattuta tra gli abitanti di Nepi e di Sutri contro i Saraceni. Saraceni? Come è possibile? Chi erano questi Saraceni? Erano il nome di una popolazione stanziata sulla penisola del Sinai, quindi nell'attuale Egitto, e questa popolazione aveva per estensione dato il nome a tutte le popolazioni nomadi islamiche del Nord Africa nell'Alto Medioevo. Allora che cosa succede? Questi Saraceni erano famosi per tutta una serie di incursioni e atti di pirateria che nel IX secolo avevano cominciato a interessare tutto il Mediterraneo centrale, infatti partivano dal Nord Africa, avevano stabilito una base in Sicilia nell'827 dalle parti di Mazzara del Vallo e poi avevano cominciato a bersagliare le coste dell'Italia e della Francia meridionale e quindi tutto il martirreno e vicinanze. Arrivano già a Roma per saccheggiare Roma nell'anno 830, compiono una prima razzia e poi razziano le chiese più importanti, la chiesa di San Pietro e San Paolo soprattutto, e poi se ne vanno. Cosa facevano? Ovviamente cercavano tesori, ori, ma soprattutto cercavano schiavi, rapivano persone e se le portavano nel Medio Oriente vendendole come schiavi. Era ovviamente una pratica che l'Occidente non conosceva più e quindi era una pratica molto aggressiva, per cui c'era forte preoccupazione. Nell'anno 846 i Saraceni ritornano, attaccano tutte le coste laziali, si infilano con le loro navi nel corso del Tevere e arrivano di nuovo fino a Roma. Questa volta troveranno la possibilità di realizzare saccheggi maggiori, sono tornati in forze. È l'anno 846 e Roma necessiterà di riprendersi da questa grossa batosta, per cui verranno costruite le mura. La Civitas Leonina, Papa Leone IV, costruisce appunto queste mura tra gli anni 848 e 852, a cui, spesso ve l'ho già raccontato, parteciperanno anche degli abitanti di Veio, perché la milizia Capracorum realizzò una torre e una pagina muraria, proprio delle mura leonine. C'è un'iscrizione che ancora ricorda questa partecipazione della milizia Capracorum a questa realizzazione murata sopra alla porta angelica, la porta attraverso la quale si entra in Vaticano, per esempio per i pellegrini della Via Francigena. Ma i Saraceni, dopo l'846, continuarono a bersagliare le coste dell'Italia centro-meridionale e saranno i napoletani a porre una resistenza e quando ci sarà la minaccia di un nuovo attacco nei confronti di Roma, questa volta con forze veramente imponenti da parte dei Saraceni, si organizzerà una lega, la lega campana, che prevedeva la partecipazione delle città di Napoli, Sorrento, Amalfi e altre, Gaeta, e tutte queste misero a disposizione i loro uomini e le loro navi per ostacolare l'accesso, lo sbarco dei Saraceni che volevano sbarcare a Ostia. Siamo nell'849, la battaglia di Ostia, una battaglia anche questa dimenticata, ma fu probabilmente la più grande vittoria contro i Saraceni prima della battaglia di Levanto, parliamo di 600 anni successiva. Quindi la battaglia di Ostia, 849, nel frattempo i Saraceni, gravi perdite, riparano, rientrano nelle loro basi siciliane e torneranno, torneranno però in forze, torneranno in forze qualche anno dopo, perché noi sappiamo che nell'870 venne distrutta proprio dai Saraceni la città e la domus culta, anche il borgo fortificato e la domus culta che si trovavano lì nei pressi, di Galeria. Quindi diciamo che nell'870 i Saraceni continuano a impattare sul nostro territorio. Questa fase, questo momento, diciamo così aggressivo, ecco c'è un camioncino che passa, che racconta delle storie, questa fase così aggressiva dura ancora a lungo, l'870 abbiamo detto, distruzione di Galeria, ma ci sono altre tracce, probabilmente la stessa domus culta capracorum verrà, che si trovava, diciamo dove oggi più o meno si trovano i campi della Lazio, dall'altra parte della collina, in un luogo dove già passava una strada di pellegrinaggio che possiamo chiamare già via Francigena, insomma i Saraceni distruggeranno probabilmente anche quella, fonti e tracce archeologiche ci testimoniano di un grande momento alla fine del IX secolo di distruzione e d'incendio rispetto appunto alla chiesa di San Pietro nella domus culta capracorum. Quindi insomma, Saraceni che scorrazzavano nel nostro territorio arrivano addirittura a impegnare il Soratte, il Monte Soratte, e qui torniamo appunto alle memorie di Sannonnoso, anche se Sannonnoso è vissuto nel VI secolo, ma insomma chi ha raccolto memorie e testimonianze del Soratte ha raccontato anche questa vicenda e con grave danno ovviamente per il monastero di San Silvestro che si trovava sul Soratte e per le reliquie. Insomma, quell'area era già sottoposta alla diocesi di Nepi e quindi Nepesini e Sutrini si organizzeranno per una difesa strenua del territorio. Ci saranno altre vicende, nel frattempo i Saraceni conquistano tutta la Sicilia nel 902 e evidentemente insomma tornano a fare razzie nel nostro territorio sempre con le loro imbarcazioni sbarcando sulle coste e poi entrando nell'entroterra, alla ricerca di ancora tesori che non erano riusciti a catturare e soprattutto di schiavi. Era una tratta costante, ma questa volta troveranno Nepesini e Sutrini armati e pronti alla difesa, che sceglieranno la valle di Baccano proprio per la sua conformazione diciamo di conca per la trappola. Quindi così ci sembra di aver capito leggendo queste poche informazioni disponibili e insomma li prenderanno, faranno entrare i razziatori Saraceni nella valle di Baccano e poi uno scendendo da un lato e uno scendendo dall'altro li attaccheranno spingendoli verso il lago che oggi non c'è ma che allora c'era e come. Era già quasi impaludato ma era sicuramente un elemento strategico molto importante. Insomma sembra che di Saraceni da quella battaglia del 913 o 914 non ne sia uscito vivo neanche uno e questo diciamo in qualche maniera poi mette un freno alle incursioni Saracene successive. Che cosa faranno poi Saraceni? Continueranno nel Mediterraneo a essere una spina nel fianco soprattutto per il centro-sud Italia ma poi oltre a questa respinta diciamo intanto la grande battaglia di Ostia famosissima, la battaglia di Baccano molto più misteriosa e sconosciuta ma insomma ci saranno poi la crescita di potere delle repubbliche marinare a porre un freno a queste invasioni Saracene e quindi in qualche maniera confinarli nella loro Sicilia dove i Saraceni nel frattempo avranno anche portato tutta una questione culturale, le loro arti, le scienze, l'architettura e anche una certa libertà di culto. Quindi diciamo che l'imposizione in quel momento, la preoccupazione, il pericolo dei Saraceni non era tanto come è stato detto da qualcuno di privare della religione cristiana, trasformare Roma in una città musulmana ma era veramente la ricerca di materie prime sia dal punto di vista di ori e tesori ma anche dal punto di vista di forza lavoro, di schiavi da portare nel Medio Oriente. Ecco nel 913 o 14 nella valle di Baccano si è svolta l'ultima battaglia nei confronti dei Saraceni. È veramente successo? Diciamo che abbiamo poche fonti per poterlo dire però diciamo che questa alleanza nepesina e sutrina, questa difesa dei loro territori e della diocesi su Pretonia che coinvolgeva anche il Soratte ecco qui deve aver trovato un luogo che morfologicamente era adeguato per poter far scattare una trappola e interrompere, diciamo porre un freno a queste invasioni che per circa un secolo hanno interessato il nostro territorio. Veglientani Sumus, ciao!